buongiorno ragazzi per chi volesse sostenere il canale ormai lo sappiamo tutti lo si può fare solo gratis iscrivendosi ed attivando la campanellina è un semplice clic gratis su iscriviti ed attivate la campanellina perché è molto ma molto importante voglio dire una cosa che circa 14 ore fa il signor Severnini del Corriere della Sera consiglia di mettere Marotta presidente e poi dice tra poco arrivano gli arabi quindi anche il Corriere della Sera insiste con il famosissimo promissario acquirente la Glass Trust che a chi dobbiamo rispondere a chi diceva che la Glass Trust non esisteva rispondiamo anche a loro perché ora dice Giusema voi avete sempre detto promissario acquirente dietro la Glass Trust è assolutamente vero ma promissario acquirente Glass Trust o non Glass Trust cambia poco perché tutti i media nel mondo ne hanno parlato e tutti i giornali economico finanziari parlano di sauditi pronti ad acquisire l'Inter parlano addirittura di offerta dei sauditi rifiutata da Zhang e questa qua di Glass Trust anche se bisogna aspettare bene prima di capire cosa ha fatto Glass Trust perché a noi sembra strano che si sia servita di Glass Trust solo per riscutere un semplicissimo impegno quindi questo questo eh questo della Glass per noi era eh un tecnicismo che ci ha fatto pensare ed è assolutamente vero quello che qualcuno sta dicendo quello della Glass era un tecnicismo e ci ha fatto pensare che ci fosse dietro un promissario acquirente schermato potrebbe non essere schermato ma comunque il promissario acquirente c'è esiste e sono solo ed esclusivamente ed esclusivamente i sauditi quindi noi pensavamo ad un acquirente ripeto schermato da Glass in virtù del doppio pegno sulle lussemburghesi ma comunque ora vediamo bene la funzione di questa Glass ma ripeto non cambia nulla non cambia nulla anche qualora fosse stato il security agent perché vorrebbe dire che non era schermato da lei ma il promissario acquirente c'è sono i sauditi e a breve qualcuno farà una bruttissima figura perché eh questi signori eh io parlo anche di persone che hanno il coraggio di chiedere soldi ai tifosi dell'Inter per parlare con loro se paghi sette euro diventi leone del canale se paghi quindici euro diventi fagiano se ne paghi quarantasei un piccione a questa gente che chiede i soldi che non ne ha mai beccate una che si spaccia vicino all'Inter e che che fa informazione perché ora questi sono talmente eh umiliati stati umiliati che si attaccano a qualsiasi cosa io volevo solamente ricordare a questi signori una cosa semplicissima che sono passati da zang pinco fatta fino a duemilaventisette ti parlavano delle strategie di zang triennali compreso lo stadio fino a duemilaventisette zang senza lo stadio non vende zang aspetta lo stadio è crollata tutta quella miriade di bacianate che hanno detto e da esperti di zang e di pinco scuppo mondiali contro mondiali bombe contro bombe ora sono diventati esperti di octri e sanno tutto quello che farà octri quindi questo ti fa capire come si muove questa gente perché prima erano esperti di pinco e zang nel giro di settantadue ore ora sono diventati esperti di octri e sanno tutto quello che farà octri ah è vero mi avete chiesto scusate ma ecco per chi volesse far parte della nostra chat whatsapp scansionassi il code ed entraste nel nostro canale whatsapp dove si può entrare facilmente scalzionando il code ma se ne esce altrettanto velocemente se non vengono rispettate determinate quindi ecco da esperti di pink o zang 2027 ora sono diventati esperti di otti che è un orco cattivo e vendere a tutti che ometterà le tasse in italia perché ovviamente questi umiliati ora vogliono far capire che non c'è nessun compratore e l'inter come che l'inter rimarrà ottrì mentre prima ti dicevano che zang era saldo al comando fino al 2027 stanno un po impazzendo diciamo sono nel panico io li aprisco ma gli consiglio vivamente gli consiglio vivamente di essere molto più umile di ammettere di non sapere nulla perché non c'è niente di male molto più difficile per chi chiede soldi abbonamenti se paghi tre euro sei fagiano del canale a otto sei un cinghiale e se paghi l'abbonamento di 30 sei un piccione queste cose qui io smetterei di farle e per chi volesse fare un regalo a questo canale lo sapete benissimo sempre se qualora questa persona fosse predisposta nel farlo adottasse un cane con un gatto oppure c'è anche l'opzione b io vi fornisco anche l'opzione b invece di dare i soldi a questa gente che spara le puttanate su youtube e che vi chiede gli abbonamenti al primo gattile vicino a casa vostra al primo canile comprate gli cibo oppure donate quei soldi a loro perché li avrete spesi sicuramente molto ma molto meglio ci vediamo dopo ciao inter grazie grazie Grazie.